Ciao Giulia! Ciao! Com'è andata la partita? Male, va! Ed io che credevo di essere la migliore! Sai, cucciola, anche i migliori possono migliorare! Nuovi fusilli? E loro in cosa sono migliorati? Beh, innanzitutto sono molto piatorciglievoli, ma una scanalatura che... chiappano, proprio! Papà, tengono meglio il sugo! Il sugo? Ecco, ecco! Nuovi fusilli Barilla, in viaggio verso di voi! Grazie a tutti!